gentili amiche e gentili amici del grande basket femminile buonasera immagini che vi giungono dal pala romare di schio ultima giornata di stagione regolare macchi la penetrazione di macchi che trova un grande un gran canestro quattro punti di macchi consegna nuovamente ad anderson anderson alza la parabola anderson macchi schiaccia palla per anderson anderson si gira bene ci trovare morbidissimo ancora anderson il tiro sbagliato rimbalzo di macchi può andare attacco schio macchi grande palla per anderson ancora splendido contro piede schio con due minuti e 48 secondi da giocare dall'altra parte wolker pescata benissimo da carangelo masciadri fuori da gatti schio che potrà ottenere palla in attacco per altri 10 secondi anderson ci prova da lontanissimo anderson wolker la penetrazione di merciori lo scarico per il tiro a tre punti di wolker che va a mettere la tripla può trovare attacco schio tagliamento prova il subito il tiro a tre punti marzia tagliamento riuscisco ma poi il pala che gira per line esterne fa vento va velocissimo affrontamento in presentazione si becca la stoppata di zanderasini chiusa bene va fuori da macchi macchi contro wolker costretta a forzare macchi è giù da trovare caretos che in questa azione si stava incartando la formazione di procaccini wolker lasciata libera ne mette altri due wolker fontanette l'arresto e tiro ancora vincente di fontanette fontanette l'arresto e tiro vincente di fontanette alza palla per anderson che ancora si bene anderson mikovic è subito il tiro a tre punti mikovic va a realizzare mikovic perde palla macchi le strappa palla wolker dall'altra parte del recupero di anderson pescata fuori da macchi anderson macchi micovic lo scarico per la wolker dimenticata difesa di schio la zona ora venezia e anderson va subito a piunirla con un'altra tripla l'ennesima della sua partita l'ennesima della sua stagione macchi grande palla di macchi ancora per anderson carangelo in angolo per walker tiro a tre punti di walker mette la tripla walker troppie di venezia walker fontanette il tiro a tre punti che va di fontanette merito sicuramente di venezia award pescata benissimo si gira bene award anderson sottana a spazio per il tiro a tre punti giorgia sottana apertura per carangelo corre veloce attacco venezia fontanette il fallo di macchi canestro buono walker il tiro a tre punti è lontanissimo l'errore rimbazio toccato da zandesini conquistato da ruzicco a carangelo ancora tre punti ancora canestro carangelo fontanette finisce qui finisce con la vittoria di schio 70-64 sulla raiar venezia